Mi dici chi è per te la Pascale, se ne hai stima e perché ad esempio ti sei iscritto come ha fatto lei all'Arcigay? Devo precisare anche qui che sono stato io a indurla a iscriversi, perché Francesca desiderava partecipare al Gay Parade e io lì la sconsigliavo perché poi sono quei momenti un po' folcloristici, ma perché non ci iscriviamo invece all'Arcigay? Dice, ma come si fa? Guarda io conosco la Concia, una mia amica, chiedo a lei se ci accettano e ci iscriviamo. Così un paio di telefonate nel giro di dieci minuti ci siamo iscritti all'Arcigay, sapendo benissimo io che poi si sarebbe scatenato quello che si è scatenato. Ma perché io ho fatto questa cosa? Intanto perché Francesca desiderava e poi anche io penso che in tutta Europa c'è un minimo di attenzione questi problemi, chissà perché, da noi è ancora un tabù, no? Dice, ma come mai si vogliono sposare? Ma lascia che si sposi, ci siamo sposati anche noi, ormai non si sposa più nessuno tra gli eterosessuali, gli unici che vogliono sposarsi sono gli omosessuali, lasciate che si sposino, ma che ci fregano, non riesco a capire perché c'è questa strana mentalità.